Musica Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono MamiTD dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo ottavo episodio di Ark Pokemon Evolved Ebbene si, scusatemi se in questo episodio non do in diretta i nomi alle persone che insomma sono state selezionate, che sono stati i primi a commentare nello scorso video Ma questo video lo sto registrando subito dopo, cioè nello stesso giorno del video che ho registrato la settimana scorsa, che voi avete visto la settimana scorsa Ma per me sono passate solo poche ore perché dovevo partire e quindi ho registrato un po' di video uno dopo l'altro e li sto pubblicando con la programmazione Per cui tranquilli, nel prossimo episodio darò i nomi sia dei vincitori di questo video che dei vincitori dello video scorso, quindi tranquilli Allora, perdonatemi se sono un po' pirla e un po' nabbo, però ho capito perché non funzionava la creazione del nostro beneamato imbecillo Dove stai? Vieni qua bello de zio, Zoroark Dove cazzo? Oh mio dio La paura che avevo spostato qui, dannazione! Va bene, quindi ho sprecato 20 cristalli, cioè 20 capsule a minchia, il problema era che non l'avevo acceso E quindi, grazie a sta pizza, quando ho contattato gli amministratori mi hanno detto ma hai acceso il cazzetto? L'ha detto Eeeh, nooo, e quindi sono un po' pirla quando faccio ste minchiate, scusatemi Allora, in questo video quindi useremo il nostro Zoroark, lo proveremo finalmente, sono episodi, decenni che lo volevo utilizzare Ma non solo, non solo, allora io mi crafto altre health capsule, me ne servono almeno altre due Quindi ho bisogno di 12 più 25, 37 crediti e ho bisogno anche di un bel po' di ferro Quindi andiamo a fare queste cose insieme Per cui... voi che state facendo lì dietro? Che io i do, io i do, non importunare la ragazza Aspetta, magari pure... guarda, è mail, questa è mail, è questa è mail Io i do, io i do, che combini Nicole, pure tu però, spostati da... e lo so, e spostati, non ti incazzare Cioè, poi, c'hai il Machamp con le mani che ti tocca da dietro E' normale che poi ti senti un attimino in soggezione E su, dai, e via, e non fate queste cose nei video Io i do, per piacere, sei una brava persona, non fare queste brutte cose Allora, prepariamo ancora una volta lo squadrone della morte Io me li potenzio in attacco, chissà, fanno danni, sti dannati Pokémon Perché voglio catturare Ninetales Mi hanno consigliato Ninetales perché dicono che è uno dei Pokémon più forti per... in attacco, insomma Per massacrare gente Quindi, ho bisogno di due cose che andremo a fare insieme Crediti, quindi portiamo lo squadrone della morte per andare a farmare Crediti Enable Following Enable Following Ed Enable Following Però non andiamo contro i Piragna No, 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 no Con lo squadrone della morte andiamo a farmare un po' di Burlsprout E poi, oltre a questo Andiamo a fare Ferro Ovviamente non lo vedrete voi Lo faccio velocemente perché mi costruisco almeno 5, 6, 7 Un po' di trappole grandi Perché con le trappole grandi posso tentare di catturare Ninetales Immagina, ma quanto sei lento E su, via, e corri un pochino, va Ok, la nostra prima vittima Vieni qua, bello Burlsprout Che livello sei? 1000, 1000? Che cazzo di livello sei? Ma state scherzando? Il Burlsprout di livello 102? Ma io questo me lo catturo Altro che ammazza Questo me lo catturo proprio 5 No, fermo, fermo Burlsprout non guarda nell'acqua Non guarda nell'acqua che stanno Ehi, 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 ehi Passivi Su, venite da zio E no nell'acqua E no nell'acqua Il Burlsprout è maledettissimo Che cazzo? Ah, sembrava un Burlsprout verde Ho detto che cazzo Ho trovato il Burlsprout shiny Va bene Ok, il primo Burlsprout è andato Ma porca di quella miseria Ma è possibile che il primo Burlsprout che trovo È di livello 100? No! 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 Non è più quello il mio target Ok? Basta Vieni Vieni Nicole Vieni Garchomp Forza Andiamo a trovare gli altri Burlsprout Che sono tutti scappati Ma com'è possibile? Però pure voi potete attaccare all'istante No, eh Devono attaccare Ma io non lo so Allora Questo lo possiamo attaccare, vero? Quindi attacchi Questo Questo Sto attaccando questo Stupidi dinosauri Guardate Sta qui Dai Ammazzatelo Forza Oh ma siete veramente deficienti Faccio io Perché voi siete Non stupidi Ma scusa Siete in Attacking your target Lo sto attaccando Forse lo vedono unconscious Sono stupidi Squadroni della morte inutile Ok Qui ci sta Un'infinità di Burlsprout Gentilmente Me li potete massacrare Forza Arrivate Ma perché siete così inutili? C'ho tre giganti Che non fanno un cazzo di niente Allora Vieni qua Tu Che cazzo di livello sei? 48 Porca di quella paletta Te li faccio Ti faccio arrivare In bocca a quelli là Vai E ammazzatelo E su E via Dai Nidoking Dai che puoi essere utile all'umanità Manco per il cazzo eh Faccio io Siete inutili quanto No Dove vai? Venite qua Venite qua Siete completamente inutili Addio Che cazzo Via Via Che ci sono i pesci bastardi Pescio Pescio bastardo Che cazzo sei lì? Là c'è un altro pescio No 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 Sti pesci E via Via Come ho fatto a morire? Vabbè Voi venite via di là va? Comunque devo rinominare questa squadra Da squadrone della morte A squadrone della pace Non sono manco in grado di uccidere dei bellsprat Ma questo Questo me lo riuscite ad uccidere? Cioè Ve lo Ve lo mando addosso Riuscite? Ce la potete fare? No Ah perché sono in passivo Sentite avete rotto il cazzo Siete completamente inutili Addio Non vi voglio più Cioè potete andare a morire e ammazzare No scherzo dai Mi servite Me ne ammazzo io i pokemon va? Proviamo sul Charmander Vediamo un po' Me lo ammazzate? Riuscite a picchiare sto deficiente? O ci morite voi? Chissà se vi è Oh Siete utili all'umanità Non ci posso credere Siete ancora tutti vivi? Sì Diciamo di sì Dai E che cazzo Ce l'abbiamo fatta Ad uccidere un dannato pokemon E dannazione E vabbè Allora vi ammazzo pure questo Dai Tentemi una mano con questo No eh Quando sono i bellsprat Per loro sono troppo pucciosi E coccolosi Non vogliono fare niente E come non capirli Cioè Un cazzo di pesce Di livello 129 Ma state scherzando? E lì ci stanno altri pesci Così sospesi nel Ma voi state scherzando? Ma io la devo provare sta cosa ragazzi Allora Tu intanto ti prendo la carne Io devo provare a prendere Quei cazzi di pesci Ma non ci posso credere Allora datemi delle frecce narcotte Tu che cazzo vuoi? Vedi che ti mando in bocca Al mio squadrone della morte Sì Ma così si chiama Certo Allora attenzione Ho trovato un pesce di livello 11 Cazzo Questo sarà fattibile Livello 11 di merda Se riesco a sparicchiarli 3, 4, 5 frecce Dovrei poterlo riuscire a prendere E mi si rompe il crossbow Ma non ci posso credere Ma state scherzando Mandatevene a mori ammazzati Cioè Ma lei guarda le sfighe di questo mondo Oh mi si è buggato Mi si è buggato Dai forza Forza Non mi dire che è morto? Non penso che sia morto È morto Ma no Ma dai ma perché muoiono sti cosi? Comunque ho bisogno delle frecce ora Io come cazzo li ammazzo i pokemon Ah Dannazione Incredibile Stanno riuscendo ad attaccare un cazzo di Bersplot di livello 148 E non stanno morendo Non ci posso credere Ce l'avete fatta L'avete intrappolato Cazzo Avete agito finalmente come una dannatissima squadra Dannazione Tu sei un Bersplot un po' impaurito di livello 7 E ci penso io E porca di quella paretta Comunque i Bersplot di livello 148 Mi danno proprio di inutilità Cioè non so Vorrei provare a catturarli Ma che cazzo me ne faccio Di un Bersplot di livello 148 Non so Un altro pesce Dimmi che non sei morto Dimmi che non sei morto Dimmi che Morto Anche lui Lì però ce n'è uno Che cosa sei? Uh che carino un Remoride Vieni qua Vieni qua bello de zio Vediamo se ti addormenti veloce veloce Ma che fighi i Pokémon d'acqua che hanno introdotto Scusate signori Venite un attimo qui Vi togliete davanti al cazzo Sapete com'è Io voglio comunque quei cazzi di Baskulin Perché sono troppo fighi Allora Tu Allora tu sei un Remoride E tu invece sei Un Baskulin E fra un po' mi attaccherai Ok Ehi Stai buonino Che cazzo è questa roba? Piragna Livello 100.000 Ok I 100.000 non li voglio Allora Signor Baskulin Vediamo Sì vabbè io so pure Smircio Questi sono difficili da prendere Ma io so pure Smircio Dove vai? Dove vai? Vieni qua Vieni qua Ok preso Vieni qua Signor Baskulin Guardalo Guardalo che è difficile da prendere Maledetto Ma io ti odio Datevi a mori ammazzati Voi e sti cazzi di Baskulin De merda Ok Siamo tornati a casuccia Rimposto tutti per stare belli qui tranquilli E tranzolli E io vado Io metto a craftare le capsule Che ci servivano E vado a procurarmi del ferro Per aggiustare il mio crossbow Ma non solo Anche perché mi serve per fare le trappole degli orsi Dobbiamo solo vedere quanto cavolo ne serve Allora Health capsule Quanto ne puoi fare? 5 Falle tutte Ok benissimo E vediamo quanto benedetto ferro Ci serve per le trappole degli orsi Weapons Melee No Non è qui Ranged No Dove cavolo stai? Structure Defenses Ok Queste qui giganti Servono 6 lingotti Quindi 5 Non 30 lingotti Benissimo Oh mio dio La pantera E' una pantera che subito Non ci sono grossi problemi per questo Ora dobbiamo solo tornare a casa Ho riparato già il crossbow E penso che mi servirà qualche altra freccia Però i narcotici ce li ho Quindi si tratta solo di farmare un po' il materiale necessario Per andare a prendere il Ninetales Poi di Ninetales ne ho trovati un po' in giro Tranquillo L'unica cosa mi sto veramente domandando Come cavolo fare a catturare i pokemon acquatici Cioè è veramente difficile Li hanno fatti veramente troppo forti E tra l'altro si può utilizzare solo il crossbow Per addomesticarli E non è che sia proprio un'arma Sai com'è? Fortissima Se avete dei suggerimenti vi prego Scrivetemi nei commenti Perché così provo a catturare dei pokemon acquatici Che sono molto fighi Altrimenti cercherò in giro Ok sta arrivando Sta arrivando il cacacazzo Io lo so che sta arrivando Allora tra 3 secondi Metterò, scaglierò tutti su di lui Per andarlo a massacrare Se non mi attacca prima lui Perché guardate un po', guardate un po' il cacacazzo Guardate un po' il cacacazzo Però almeno lo portiamo lontano da casa Arriva sicuro Cioè questo arriva sicuro sulla mia faccia Però potrei provare ad addomesticarlo Quindi se voi state qui Io mi prendo il secondo nido king Che potrebbe essere utile Male male che vada Oh cacchio Di che livello sei? Dai Addormentati Maledettissimo Oh cacchio se mi fa male Mi fa malissimo Attaccate Tannazione Massacratelo No 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 Voi dovete attaccarlo Attaccate 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 Difendetevi Vieni qua Vieni qua Vieni carciomp Via 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 No Mi ha ucciso Ioido Ma che maledetto Pezzo di stronzo Ma che cazzo Ma che rompi Coglioni Ma guardate Voi scappate un po' Che io Prendo giusto Due cosentine Che mi servono Si stanno massacrando Chi sta per Chi sta No 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 Che prendi botte tu No Mi ha ucciso Mi ha ucciso pure Garchomp Ma scusami eh Chi sta per morire No sono morto di nuovo pure io Eppure Ma vaffanculo Ma guardate Il nido King di merda Mi doveva andare a capitare Ma guardate Che due coglioni L'ho detto io che Quello squadrone Dalla morte Faceva veramente schifo E l'alba di un nuovo giorno E Mamididi Con Come ti chiami Ender Joe E' pronto per andare A catturare Un Ninetales Speriamo di non fare Figure di merda Ho sette trappole grandi Ho 125 frecce normali E 50 narcotiche 73 narcotiche Scusate Erano poche quelle che avevo craftato Ehm Ho 63 narcotici Ho delle health capsule Ne ho 6 Prime meat Quanta ne vuoi Carne Quanta ne vuoi E ora non mi resta altro che trovare Il Ninetales Il nido King Se ne è andato fuori dai maroni Per fortuna Lontano da casa mia Ora dobbiamo riuscire A prendere Un Ninetales Ragazzi stavo pensando Mentre passava la notte Ehm Cioè io ho bisogno Di una squadra Tipo di T-Rex Come in Ark normale Ma fatta di Pokémon Per poter Difendere La mia base Ma io non riesco a capire Che cazzo di Pokémon Devo avere Per non prendere sempre Solo mazzate Cioè in sto gioco In sta mod Tutti i Pokémon Sono più forti Di quelli che prendo io E se io catturo Un Pokémon selvatico Diventa Merda Quindi Veramente Non lo so Aiutatemi a capire Te sembrano tutti i Pokémon di me E poi stanno sti coglioni Che si fermano E ne fanno Il photo finish Deficienti Allora Ora proviamo con i Ninetales Se i Ninetales Sono delle buone alternative Ottimo Se non sono delle buone alternative Ragazzi Io vado di squadra di Nidoking O squadra di Bulbasaur Perché i Bulbasaur Sembra che in gruppo Facciano veramente Veramente male Cioè Non so che altro inventarmi Te pare Eccolo i Ninetales Stavo per dire Te pareva che non troviamo i Ninetales Capitano Allora Dove sta Dove sta Lì Allora io provo a mettermi Su questa roccia In maniera tranquilla Ok Lui non dovrebbe poter salire Vero Non dovresti Anche perché Se puoi salire Già ci proveresti No Non è che ora io scendo da Sighter E tu No Oh Cazzo Stavo Stavo per finire in bocca All'Ninthales Che per cazzo Allora Di che livello sei 28 Mi da un percaso Riesco a farti male Da qua Ma che ti sto Ti sto facendo male No Non ci credo Non mi dire che ti sto facendo del male No Vuoi semplicemente Sfraganarmi di mazzate Ok Ok Va bene Ho capito Allora ti sparo delle frecce in faccia E cerchiamo di catturarti Maledettissimo Beccati questo Ti prego Diventa Unconscious Velocemente Sono stato pure Fortunatissimo Che ti sei Buggato No 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 Si è sbuggato L'ho preso anche al volo Quanto cazzo Sei veloce Vieni qua Dove vai Vieni qua Vieni qua Ehi ehi Che cazzo fai Vuoi saltare Da una Da una roccia Ad uno scoglio Voglio un altro Oh si Stai fermo lì Stai No Devo Devo un attimo spostarmi Porca di quella miseria Ok Dannazione Dai Ninetales Vieni qui Ma dove cazzo scappi E su Che ti devo pure catturare Devo provare la tattica No Nell'acqua No Nell'acqua No Ma sei un Coglio Poi dice che uno Non deve usare le brutte parole Ma se i pokemon Sono stupidi E per forza Non andare Non andare in faccia Ai Geridos In faccia Non solo ai Geridos C'è di tutto Lì dentro Oh guarda lì Nidoking Oh gli spinosauri Il Ninetales Per caso è ancora vivo? Sì ma sta prendendo Tante di quelle mazzate Che io lo lascerei Al suo triste destino No Il Nidoking no Ok Devo trovare un altro Ninetales Madonna guarda la gente Che c'è da quelle parti Però Però Sembra che funzioni La tattica Magari Devo stare a terra Perché ci sono volute Circa 4-5 frecce Non ce ne sono volute tantissime Per cui Con un paio di trappole Dovrei farcela Andiamo a cercare Un altro Ninetales Ok Ne ho trovato un altro Io però Mi cacco veramente Tanto in mano A stare così A terra Per cui Allora Facciamogli un attimo Finire di scazzottarsi Non vorrei avere Un Ninetales Già morto Spero che non sia di livello Neanche troppo alto Perché se no È un grosso problema Da queste parti Tra l'altro Avevo visto anche Un Nidoking Eccolo lì Manco a dirlo Va bene Allora Il primo è morto Ha fatto fuori già Il primo pokemon Ora voglio solo vedere Di che cavolo Di livello È sto Ninetales Però Gli possiamo piazzare Una trappola Qui sotto Tipo Tipo Io te la piazzo Qua sotto Tu quando vieni qua Ecco Ecco Vieni qua Vieni qua Vieni qua Proprio qua dove sto io Vieni qua Dai bello Dai Oh sì Ti sei bloccato Eh sì 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 Mi dispiace per te Ma sei fermo lì E non ti muovi Io ti dovrei riuscire a catturare No Senza troppi problemi Altra trappola Allora aspetta Che ti devo riattirare Però No No non mi scappare Sei un maledetto Un maledetto stronzissimo Vieni qua Vieni qua Stronzo di un Ninetales Dove cazzo scappi Vieni qui Oh cavolo No Mi attacca Mi attacca malissimo No 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 Non si fa così a mamita Vieni qua E perché sei un attacca brighi del cazzo Che vuole questo mo Dai su Ninetales Vieni qua Aspetta che io ti piaccio Un'altra trappola qui davanti Non si sa mai Che mi viene a rompere le palle A me Metti che non ti addormenti Vieni Qui Che stai dormendo Oh Unconscious Togliti subito dai maroni Tu Green Ninja di merda Green Ninja di merda Ok Green Ninja pure dorme No Non dorme No Arriva pure il Nido King No Ah Che cazzo vuoi tu Vieni qua e bloccati in mezzo No E lasciami il Ninetales Pezzi di merda Lasciatemi il Ninetales Ah Ma vaffanculo Dannazione Stronzo Maledetto Ok Sono tornato sul luogo del misfatto C'è sempre il Nido King Il Ninetales è ancora qui Oh cazzo 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 Ma no Ma il Nido King di livello 136 Ma stiamo scherzando Ma veramente fate Il Ninetales però è ancora lì Che sta dormendo Ok Io ora sono un po' lontano da qua E sto per finire gli uccelli Finiti gli uccelli E' un grosso problema Eh si Devo riuscire a recuperare la mia roba E E' un grosso problema Ok Mi sa che il pezzo di merda Mi ha ucciso il Ghastly Però ne posso approfittare Per Visto che stanno combattendo Lui e Zoroark Posso approfittarne Per recuperare la mia roba Ok Intanto la mia roba L'ho recuperata Andiamo a recuperare Le Scyther Gentilmente Ok Quel Nido King Lo devo portare via di qua Allora vieni Seguimi Seguimi Pezzo di cacca Stupido deficiente Vabbè allora un attimo solo Andiamo Organizziamoci per piacere Che qua C'è un grosso problema No Tu Tu ti devi Ti devi un attimo fermare Allora Facciamo così Tu Seguimi Torniamo in casa Perché se qua ci muoio di nuovo E io ho finito gli uccelli E' un problema Il Ghastly E' andato Nine Tails E' aspetterà Cioè non è che posso perdere Tutta la roba che c'ho Però Nido King E' andato via No il cazzo E' andato via Guardalo Ma guardalo Ma che cazzo c'ha Sto di Nido King E' dopato Il Nido King dopato Mi ho trovato io Ma guardate guarda Ok Allora sto ritornando nella zona Ho depositato il Pidgeot lì Non mi sta seguendo Vero no Tra l'altro Nella stradina Che porta alla spiaggia Dalla nostra radura Ho trovato un altro Nine Tails Potrebbe essere Una valida alternativa Catturarne un altro Però se riesco a prendere Quello lì Che sta già dormendo Cioè voglio dire E' positivo ancora Dobbiamo solo vedere Se riesco a trovarlo Ancora dormiente No Sto andando fuori strada Un pochino qua Più a sinistra Vado a vedere Se quel Nine Tails Sta ancora dormendo Ma soprattutto Se il Nido King Di livello 136 Si è tolto dai maroni Se no provo A portar via il Nido King Altrimenti cercherò Altri Nine Tails Che cavolo vi devo dire Cioè Per catturare sto Nine Tails Ho perso Quattro Pokémon oggi Garchomp Ho perso Yoido Ho perso Nicole E ho perso Gastly Non mi ricordo qual era il nome Quindi ragazzi Vi potrete ricandidare Allora Il Nine Tails Dorme E il Nido King Ancora scassa I maroni Per cui Dobbiamo in qualche modo Attirarlo E portarcelo via Come lo faccio Ah ma il Gastly Sta ancora lì Il Gastly Sta ancora lì Vieni bello Dezio Vieni 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 Vai fuori dai coglioni Vieni ad attaccare Il Zoroark Che c'è qui Vieni 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 dal Zoroark Bello Si che vi fate la battaglia Tra di voi Ehi Stupido deficiente Devi abbandonare Questa zona Forse non hai capito Che questa è zona mia Io sto cacciando qua Caspita sta Ma guarda che pezzo Oh mi hai visto Si 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 Direi proprio che mi hai visto Cazzo Vieni qua Vieni qua Vieni qua maledetto Cornuto Si Ok Attacca il Bulbasaur Rimani da quelle parti Non mi rompe i coglioni Per piacere Ma Possibile che No Io non posso Cioè Si il Gastly È lì Ed è bello tranquillo Io mi metto qua Fermo E non mi dovrebbe rompere le palle Nessuno Gastly Sai te Dove cazzo vai Dove cazzo vai No No Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua No Ok C'ho il Gastly Ma dannazione Tutti in sto video Mi stanno capitando Sì ma c'è ancora il nido Che in qua Io vi odio Vi odio Odio Ark Odio Ark Mi è scappato lo Sighter Sicuramente è andato dal Pigeot Io non so che cazzo Raccontargli Asti qua Vieni Vieni Gastly Vieni Vieni Ah mi è morto Ho un grosso problema Ho un grosso problema Lui è morto Non è vivo Ok Allora me ne scapperò Addosso al Ninetales Allora Subito la capsula Diamogli la Prime Meat Che non ho Fantastico Vediamo se me la può dare Gastly Ti prego Gastly Fai che c'hai della Prime Meat Oh mi ha dato delle perle Dell'oil Interessante Però io volevo la Prime Meat Dove cazzo è Quel pezzo di merda No qua ci muoio di nuovo Ho bisogno di Prime Meat Allora Diamogli dei narcotici intanto Che no no Sì ce li ho Allora tu Consume Consume E consumali tutti Va ma sì No 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 Ti prego Fai che non mi hai visto Non mi hai visto Non mi hai visto Devo trovare dei Bellsprout No Ha visto me No non ha visto me Ok Un cazzo di Bellsprout Quando servono i Bellsprout Non ci stanno mai Dannazione Eccolo Arrivo Ok Prime Meat presa Il Nido Cioè il Nido King Sta proprio sopra il Ninetales Ma stiamo scherzando Ma io non ci No veramente Non ci voglio credere Ti prego Vai ad ammazzare qualcun altro Fuori da sti coglioni Ok Via Ma guarda te Se devo fare La domesticamento Ninja Sto facendo la domesticamento Ninja Non ci posso credere Tu per favore Consuma questo Oh Prenditi tutta la Prime Meat Che puoi E non mi rompere il cazzo Dai Magna Magna per piacere Ti stai domesticando Vero? Dannazione Dai Sbrigati Dannato Ninetales Si che si sta domesticando Oh Ce abbiamo Ninetales E ora Ce ne scappiamo Alla velocità Della luce Dovrebbe essere anche veloce Sto coso Uh quanto cazzo è veloce Ce l'abbiamo Ninetales Non ci posso credere Allora di qua Posso andare di qua Si in teoria Si Cioè Io scappo Io scappo Alla velocità Della luce Non so chi cazzo Troverò Devo andare a recuperare Il mio Scyther Dove sei finito Maledetto Mi hai abbandonato Sul campo di battaglia Io non ci posso credere Ragazzi Vi prego Lasciatemi un like Perché sti dannati Pokémon Sono delle merde Mi lasciano da solo Sul campo di battaglia Se ne scappano Ecco Via 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 Che c'è Ninetales Ok Non so Finchè non arrivo a casa Non sto tranquillo Madonna che bel Pokémon Che bel Pokémon Che ho preso E che Oh Sono arrivato a casa Sono arrivato a casa E c'è quel maledetto strano Guarda Io ti do tante di quelle mazzate Pezzo di merda schifoso Tu mi hai lasciato lì A morire da solo Perché Io ti ammazzerei la famiglia Io veramente Se non fossi così Carino Verde E volante Ti ammazzerei la famiglia Allora ragazzi Abbiamo un Ninetales Di livello 43 Non so neanche io Come sono riuscito a fare Questo domesticamento Quasi quasi Faccio l'altro domesticamento Dell'altro Ninetales Ma lo proviamo subito Se volete diventare Ninetales Scrivetemi nei commenti Hashtag Cane Bastardo Hashtag Cane Ho detto che devo pensare bene Agli hashtag da dirvi Però Il cane bastardo È su di lui Non lo dite a me È vero Vi prego Non insultatevi Ci ho pensato A catturare questo bel cagnetto Bianco E ora lo proviamo subito Quindi Hashtag Cane Bastardo E diventerete il prossimo Ninetales Stavo quasi per dimenticare Stavo quasi per dimenticare Io devo anche farvi vedere Zoroark Eh 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 Perché l'abbiamo Crastato Non posso ancora attendere Perché poi voi Mi tirate i peggio porchi Allora vi faccio anche vedere Zoroark In diretta E proviamo Tutte e due Allora Zoroark Consume Ok Oh no Ciao bello Ma quanto sei carino Ride Vediamo Dovrebbe essere Velocissi Insomma Guarda Era meglio che mi catturavo Altri dieci Ninetales Allora Facciamo una cosa Io vado a provare Sia Ninetales Che Zoroark Sui Eh Sui Bellsprout Non dovrei rischiare un gran che Spero Mi auguro Vediamo un po' Mi segue il Ninetales Sì Guarda il Ninetales va piano E dice Ma guarda sto deficiente Quanto cazzo va piano Che merda Che sei Che merda Ok Bellsprout Che livello sei Bellsprout Livello 7 Vediamo Il nostro Zoroark Riuscirà a farci qualcosa Ok Ci sta pensando Ninetales Sì perché mi sembra Abbastanza inutile Zoroark Ninetales invece Oh La putenza Vai vai a recuperare la carne Mi sembra veramente Interessante Come Pokémon Ninetales Perché è veloce Quindi riesce a inseguirli Come si deve E Sì 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 Non so Non so Quanto possa Effettivamente Contrastare Un Nidoking Però Diciamo che Zoroark Mi fa un po' schifo Sì Decisamente Pensavo fosse molto meglio Invece Invece Ninetales Ok lo proviamo Proviamo subito Su Sempre su Dei Bellsprout Io non posso fare prove Più interessanti Perché c'è C'è un altro Garchomp Lì Ok che potrei anche Catturare Perché voglio dire Non è che sono Grossissimi problemi Nel catturarlo Ma è abbastanza inutile Quindi No Tu nell'acqua No Tu mi ci muori Perché se arrivano poi I Pokémon Come si chiamano I pesci leggendari Cioè qua stanno I pesci leggendari E purtroppo Questo è Yark buggato Allora Allora vediamo Su questi Bellsprout Che cosa mi combini E Sì è un po' difficile Da usare però eh Forse è meglio Se ti uso in questo modo Vediamo un po' Vai Vai all'attacco Va Va Vai All'attacco Dei Bellsprout Vai Già Vai bello Vai Vai Distruggi il Bellsprout Vai Bellissimo Devo dire che È utile Una squadra di Ninetales Potrebbe essere veramente comoda Sì 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 Fatemi sapere nei commenti Se volete una squadra di Ninetales Nel frattempo Oh GG Hai ucciso il Bellsprout Di livello 5 Sei forte No sta ancora lì Parò Ah perché fa attacchi di Ha fatto attacchi di gruppo Ok Spostati un attimino Ammazza il Bellsprout È su E dai che non è difficile Dicevo Se volete vedere la squadra di Ninetales Nei prossimi video Scrivetemelo Perché Mi potrei andare a catturare un bel po' di Ninetales Che ne so 3, 4 Quelli che trovo Quelli che riesco Potrebbe essere davvero utile Ehm Se siete arrivati fin qui Lasciate un like Commentate Condividete Per sostenere il canale Sostenere la serie Per sostenere il video Per sostenere me Ehm Se siete arrivati fin qui Hashtag Ehm Odio in rosa Hashtag Odio in rosa Sapete perché Penso che lo possiate capire Detto questo Un saluto Sharks Siano tutti Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Ciao